Oggi vi faccio vedere un balisong molto particolare, è il modello disegnato da Lazy Sabo per la Spidercom, appunto lo Sabo Fly, ha un clip posteriore intercambiabile, le manicature sono in titanio, anche di notevole spessore, abbiamo una clippina a molla, come vedete ha una molletta di ritenzione ed è molto comodo da utilizzare, la particolare forma permette un'apertura molto molto veloce del coltello stesso, io non avendo spazio non vi posso far vedere bene, il coltello è in acceio 154cm, come vedete c'è la firma del disegnatore, la lama è veramente molto molto particolare, infatti questo è un modello che o piace o non piace. La costruzione è golden colorato, quindi la fascia alta della Spidercom. Modello davvero molto particolare, ma in compenso costruito in maniera veramente eccellente. da del notevole peso delle manicature, l'apertura e la chiusura è veramente veloce, diciamo che fa tutto da solo, un body song abbastanza particolare, Spidercom Sabo Fly.